signora può entrare aspetti cosa c'è tutti dicono che è un uomo pericoloso anderotti non è pericoloso è spericolato che è tutta un'altra cosa c'è qualcosa che devo sapere di lui sì le mani osservi le sue mani se fa girare i pollici significa che lei sta dicendo cose intelligenti se si gira la fede al dito vuol dire che non è d'accordo con quello che lei sta dicendo se i polpastrelli cominciano a toccarsi a intervalli regolari significa che entro cinque minuti lei sarà congedata e quando dilatta le occhi di colpo che significa non lo so nessuno lo sa buona fortuna grazie grazie a tutti grazie a tutti giulio e mezzanotte dobbiamo andare ricordati che domani devi partire sì lì buona notte ringrazio androtti di essere venuto ciao paura grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti